Allora, mettiamola così, Dio non esiste, io non l'ho mai visto e quindi tutto fa supporre che non esista. I fatti misteriosi possono essere spiegati in modo complicatissimo e forse è poco razionale, ma è possibile. Ci sono miracoli, ma perché ci sono anche le disgrazie? Eh, i conti non tornano. Le appareazioni sono, come ogni probabilità, allucinazioni. Insomma, potrebbe essere tutto un'illusione, ma a me... A me, credo in Dio, piace. L'idea è di averlo così. Mi sembra così far parte, che a volte mi è sembrato davvero di averci a che fare. Insomma, non esiste alcuna ragione razionale per cui io devo credere in Dio, tuttavia non posso negare di credere. E a me non importa che esista. Mi basta che esista una possibilità che esista. Io ho bisogno di credere in conto. Se piace, è piccolo. Se non c'è, non avrò fatto del male a nessuno. So, this is goodbye. This is goodbye.